Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione è per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Jader Fabri e questo è A Tavola con Jader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie, di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a Tavola con Jader c'è Andrea Lociccero, conduttore televisivo e ex-regbista. Anche se io sai come la penso sull'ex, non mi piace perché è un atleta, è sempre un atleta per tutta la vita, soprattutto di alto livello come te. Benvenuto. Gli ex sono sempre ex, insomma, nemmo profeta in patria, un'olta fatto poi si dimenticano di te. Sì, però di te fan fatica a dimenticarsi, perché comunque hai fatto una carriera d'atleta di alto livello. Sì, ho avuto la fortuna di fare una carriera dove non c'era una speranza, perché il rugby non era uno sport conosciuto, quindi quando ho iniziato io, in qualche maniera abbiamo preso il testimone dagli ex-atleti, chiamiamoli nuovamente ex, è portato avanti. E così è diventato un po' uno sport simbolo di correttezza, di aggregazione, di durezza, però anche di grande rispetto. Esatto. Questa cosa qua mi ha sempre molto affascinato. Come ti raccontavo, ho avuto trascorsi, ho seguito dei team, non proprio del rugby, ma comunque di sport abbastanza di contatto, un po' più protetto rispetto al rugby, però la correttezza a volte si trova più in uno scontro fisico di quel tipo rispetto in altri sport dove proprio il contatto non esiste, però magari esiste molto più scorrettezza. Perché? Perché nel nostro sport conosci il dolore, quindi il rapporto col dolore. Quanto fa male arrivare con un impatto che ti fa sentire la botta. La forza dell'avversario. Esatto, è la forza dell'avversario, che non è misurata nell'aggressività, ma nella determinazione di fermare l'avversario. Quindi quello è un aspetto che pochi conoscono perché pochi lo provano. Quindi di conseguenza si crea questo grande rispetto che sta nelle corde del nostro rugby. È davvero interessante. Qui a Tavola con gli Ader noi parliamo prettamente anche di alimentazione di cibo, ma in realtà di segreti per quello che è la salute, il benessere e anche una longevità sana della quale tu sei un grande cultore. Una domanda che mi fa partire spesso con gli ospiti che io invito qui è i jolly, che sono il cibo del convivio, quello che ci piace maggiormente, quello che mangiamo con piacere. Quello che piace a tutti. Quello che piace a tutti. Che mangiamo con piacere insieme ad altri. Il tuo jolly preferito qual è? Ma io non ho un jolly, perché tutto quello che preparo per me è un jolly. Nel senso che lo faccio col piacere di farlo e soprattutto con la giusta regola alimentare. Dopo aver finito una carriera professionistica c'è sempre la tendenza a prendere peso. Io in realtà ho detto, ma perché non mi serve? Quindi 118 kg non mi servono più. Quindi devo ritrovare, uno per l'età, due per la condizione fisica, come dire, un aspetto molto più sano del mio corpo. Quindi oggi mi occupo di cucina e in qualche maniera ho dovuto studiare ancora di più quello che poteva essere il mio cibo jolly. Cioè non deve essere il contentino. Il cibo jolly deve essere tutti i giorni. e non in un momento. Quando vai a un evento che hai una miriade di alimenti che ti propongono, chiaramente hai l'attenzione di dire ah provo tutto, provo tutto. L'occhio cade. L'occhio cade. Ma anche la voglia di assaggiare tutto. In realtà la devi, come dire, mangiare quello che ti piace e soprattutto quello che pensi che è meno lavorato. Perché già ha avuto una lavorazione all'inizio. In più viene lavorato per eseguire quel piatto e alla fine capisci che la scatta quel meccanismo perverso che potrebbe essere il fatto di essere un cibo non sano. Quello più intero, come tecnicamente a volte viene definito, o quello che ha un'etichetta ingredienti più corta? Quindi quello che ritorna a essere un vero alimento, cosa che oggi appunto nella nostra quotidianità, partendo anche dal supermercato, facciamo veramente fatica a trovare. A me a volte capita che alcuni clienti in ambulatorio, ma anche altre, anche a volte quando lavoro con delle aziende, mi propongono alcuni tipi di prodotti o di emulare alcuni competitor di alcune categorie merceologiche e arrivo a vedere delle etichette un giorno ne ho contate fino a 59 ingredienti. A quel punto diciamo che non si può più parlare di un alimento. No. Stiamo parlando di un prodotto commestibile che è diverso, però non ha... Il broccolo. È broccolo. Il broccolo ha un broccolo. La carne è carne. Esatto. Non ha neanche questi tipi di alimenti. Non hanno bisogno della tabella di ingredienti o tabella nutrizionale, perché quello è ed è realmente il cibo intero. Una cosa che infatti mi interessava sapere era il divario di peso e di far sapere il divario di peso tra quando tu giocavi e quello che poi sei diventato negli step dopo una volta aver smesso. Allora, inizialmente io pesavo 118 kg. Finivo la carriera, diciamo, la stagione, 110 kg. Perché mi mangiavo tutti quei chili di... Durante. Durante. La fase agonistica. La fase agonistica. Poi necessariamente li riprendevo quando rimettevo a posto la parte, diciamo, di recupero dalla competizione. Quindi eravamo solo in fase di lavorazione. Là mi serviva perché dovevo assumere un tot di calorie. Finita questa fase ho detto no, adesso devo cambiare. Perché non mi servono più tutte quelle calorie. Soprattutto potevi anche permetterti di mangiare male. Ma lì... Perché il 118... Sai, il peso sulla bilancia dice poco. Però mi interesserebbe capire quei 118, anche con la tua cultura attuale sull'alimentazione, perché comunque tu hai uno scursus importante e oggi è una cultura nutrizionale, devo dire, anche meglio di alcuni tecnici. Ci provo. Però... Quei 118 mi viene da pensare che a suo tempo fossero anche una alta percentuale di grasso corporeo. Questo è utile al regbista per un fattore di impatto? No, era una sorta di bilancia. Questa bilancia tra parte muscolare e parte di grasso. Inevitabilmente se vuoi essere un atleta pulito, quindi non prendere scorciatoie, devi avere sicuramente quella percentuale. Non ho mai visto un atleta pulito, pesante, che ha solo massa muscolare. Che ha una percentuale di grasso bassa. È impossibile. Soprattutto perché stiamo parlando di uno sport. diverso probabilmente è chi fa bodybuilding che non fa un'attività agonistica. In quel caso non deve avere una performance. E neanche cardiovascolare. No. In questo caso stiamo parlando di uno sport agonistico dove ci deve essere una componente aerobica molto importante. Però c'è di base un'attività cardiovascolare dove ci sono grandi componenti di forza che poi allenavate anche in palestra. Assolutamente. Però anche in quel caso una delle poche volte dove la bilancia era importante perché era in peso specifico lo sposti difficilmente. Sì, era importante perché intanto sai benissimo che nel momento in cui tu sei pesante ma hai una forza esplosiva che riesci a mantenere per gli 80 minuti e chiaramente diventi un cliente scomodo. L'impatto è forte. Perché l'impatto è forte. Esatto. È come se tu fai un incidente stradale in un campo da rugby. Detto questo il peso era importante però che fosse un peso che si possa muovere rapidamente. Quindi è là il giochetto è là il meccanismo allora tante calorie tanto allenamento tanto cibo in generale esatto che importava quasi poco da dove arrivava come tipologia. No, in realtà poi abbiamo avuto dei preparatori che ci hanno detto beh cerchiamo di mangiare in questa maniera piuttosto che in un'altra mangiare bene vuol dire avere tutto di stagione il meno lavorato possibile quindi se c'è diciamo broccoli, ceci e tutto quello che sarà questa parte deve essere meno lavorato quindi un filo d'olio più pulito in generale esatto più pulito perché tanto sta anche quello tanta lavorazione fai anche sui fornelli più miscugli fai e più aumentano le calorie perché vai sempre ad aggiungere tante esatto e tu lo sai perfettamente quando invece vai a limitare questo ma vai a mettere tante calorie pulite allora il risultato secondo me è migliore perché poi al punto di vista di esecuzione sportiva tu vai a dare un risultato importante e quindi 118 110 a fine carriera agonistica finito a fine stagione e poi dopo comunque nelle stagioni si ripeteva un po' questo ritmo era ciclico poi smetti di fare agonismo e cosa accade? e in 7 anni sono riuscito a prendere o perlomeno a trasformare purtroppo 7 kg in grasso ulteriore ho detto no quindi 117 anche sulla bilancia? si sempre 117 però vedevo che il livello di grasso aumentava anche perché io vedevo quando ti allenavi facevi degli stacchi con 200 e passa chili cioè cose che per forza quelle nelle 72 ore generano un effetto metabolico incredibilmente a favore del dimagrimento è ovvio che se tu continui a mangiare in una medesima maniera come quando giocavi però quegli stacchi lì immagino non li facessi più no ma c'è anche un'altra componente perché c'è quella alimentare c'è quella di preparazione atletica ma c'è quella di scarico che è dovuta al sabato che tu giochi e dai in quegli 80 minuti tutta la benzina che c'hai quindi ancora di più vai a trovare un meccanismo che è completo quando finisci la carriera non ce l'hai più perché quello ti manca quell'altro magari preso dice vabbè oggi mangio così non hai quel quel filo conduttore che ti aiuta a seguire quel percorso e in più non avevi neanche probabilmente un riferimento diciamo culturale da un punto di vista nutrizionale perché magari avevi conosciuto qualche preparatore o simile nella carriera agonistica che però ognuno poi magari aveva le sue idee ma per quel tipo di attività che facevi ma in realtà non ce l'hai perché non fai quello di mestiere e in più non ti interessa perché hai finito una carriera e tu dici basta adesso non voglio stare dentro quelle regole rigide poi entra un meccanismo di come dire ma che sto facendo ma mi serve veramente ho 47 anni oggi vado per i 48 voglio continuare questa vita così no allora la fai una scelta fai una scelta a diventare una regola di vita che non è che necessariamente qualcuno ti sta imponendo di comportarti in quella maniera lo stai facendo per te quindi vuoi star bene vuoi muoverti liberamente per quello che è il dato attuale sì io voglio far sport e voglio continuare a fare sport per il piacere di farlo non più per la parte agonistica che poi ci sarà sempre però se perdo insomma te ne fai una ragione te ne faccio una ragione se invece sto male la mi crea un problema perché non voglio star male soprattutto dal punto di vista digestivo quando la mattina devi andare al bagno devi essere una macchina abbastanza in ordine non dico perfetta perché la perfezione delle volte diventa uno stato maniacale e non va bene è un po' come fare le diete cioè diventa in un breve periodo può funzionare e possono anche andare bene tutte nel lungo periodo diventa una cosa insostenibile la ricerca della perfezione direi che questo switch tra fine carriera e una scelta consapevole nella fase successiva però non è una cosa che si può riscontrare in un passaggio di molti atleti che quando finiscono io non so i tuoi colleghi ma in tanti sport a volte io vedo anche i miei ex atleti che oggi magari hanno finito devo dire che se li vedo ogni tanto non sono proprio perfettamente rimasti in una cultura non devi fare l'atleta però in una cultura del movimento della cultura del mantenersi in forma e di star bene con se stessi ma noi partiamo dal presupposto che quando tu fai sport non da ragazzo ottieni dei risultati quando diventi professionista hai una cura del corpo hai una cura della mente hai una cura di tutto quello che è la tua vita se in qualche maniera tu vai a perdere questo vuol dire che è solo stato indotto solo per raggiungere un risultato in realtà per molti atleti deve essere il contrario deve essere proprio una forma mentis che ti porta a fare quel percorso e poi a raggiungere quel risultato stessa cosa nel dopo carriera quindi se vuoi mantenere un corpo che sia sano e soprattutto non andare ad avere sostegno dai farmaci cosa che io non amo non li amavo prima non li amo adesso quindi penso che sono tanti metodi per poter stare bene in forma ci sono molti atleti che questo non ce l'hanno neanche per cultura quindi si si sono trovati in quel contesto professionale e là sono rimasti poi finita quella carriera prendono un'altra strada però penso che oggi si parla tanto di alimentazione e pure troppo si parla in maniera sbagliata errata e soprattutto non si va a supportare quel percorso con persone che fanno il tuo mestiere quindi io se ho un problema devo andare dal mio nutrizionista a farmi aiutare perché lui mi darà sicuramente il percorso più adatto e poi io vado ad adattare alla mia disciplina sì oggi in questo marasma di informazioni oggi abbiamo un eccesso di tutto io spesso parlo e mi piace parlare perché trovo che sia un tema anche extra nutrizionale oggi è un tema anche io penso appunto alle generazioni più giovani e trovo che sia molto importante parlare di quello che è la società dell'abbondanza oggi rispetto alla società della scarsità cioè noi si siamo evoluti grazie alla scarsità oggi invece noi dobbiamo gestire l'abbondanza e in questo caso noi abbiamo anche un'abbondanza di informazioni che questo è il problema principale che abbiamo per via del fatto che arrivano veramente migliaia di informazioni sui social ma non solo quindi ma anche pareri corretti a volte però un utente finale fa fatica a trovare a districarsi in questo c'è anche un approccio che nel momento in cui c'era l'ipocrisia della situazione della mancanza di cibo quindi la fame il nostro corpo poi si è abituato quando aveva tanto cibo a mangiare 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 oggi in qualche maniera dobbiamo fare un passo indietro e capire quando mangiare perché mangiamo e cosa ci dà il cibo il cibo è la nostra benzina quindi se abbiamo fame mangiamo io ai miei figli se hanno fame dico mangiate se non hanno fame non li posso costringere ai pasti tradizionali non è come si diceva non lasciare niente sul piatto esatto dico vuoi mangiare alle 4 mangia alle 4 perché il tuo corpo ne ha bisogno in quel momento e poi non esistono i nomi dei pasti non esiste la colazione pranzo cena spuntino esiste quando realmente abbiamo fame però questa cosa qua oggi è tanto distorta perché io stesso quando riscontro con i miei figli magari stanno stanno un po' di più al telefono stanno un po' di più alla playstation e gli dici magari sospendi può darsi che arrivi un momento che ti dicono ho fame ma se rimanevano alla playstation non se ne raccorgevano di aver fame quello è vero quindi oggi nella giovane età o comunque nell'adolescenza ma comunque nelle nuove generazioni trovo che diventi un po' più difficile rispetto alla nostra trovare un equilibrio tra la gestione dell'abbondanza però sai cosa c'è c'è un aspetto che noi molte volte per routine non lo portiamo avanti e qual è? è quello di dire tu hai fatto l'esempio il mio figlio gioca magari a un videogioco e magari si dimentica di mangiare o di fare altro passi mio figlio Ettore c'hai fame? Sì? No? E quello è il click se noi invece li lasciamo fare vuol dire che tutto prende una strada per come loro la stanno vivendo chiaramente quindi e anche noi stessi fermarsi un attimo e dire cosa posso preparare oggi a mangiare? E allora inizi a farti quel trip mentale di cosa puoi cucinare per te e per la famiglia E qui entri in gioco tu perché ok sul campo sei stato un grande giocatore però anche tra i fornelli insomma io ti vedo fare dall'erba del barone dall'orto alle spezie che già ti invidio perché mio padre era una persona che faceva l'orto ma veramente in maniera maniacale era più un giardino che un orto vedo che tu comunque hai un bel orto però hai anche la cultura di poter sapere utilizzare le spezie all'interno della cucina cosa che io da biologo nutrizionista non ho e mi piacerebbe invece imparare perché non è semplice in più te la cavi sui fornelli sei molto bravo ma allora ti ho visto in varie trasmissioni allora io ho avuto sempre la passione della cucina nel momento in cui mi hanno proposto di fare un programma ho detto non posso soffermarmi solo alla passione ma devo studiare per imparare a cucinare bene anche tecniche nuove che non è detto che una tecnica sia quella della tradizione e solo quello devi portare avanti la tecnica ti aiuta a capire come tu devi utilizzare e privilegiare quei prodotti al meglio quindi cercare di mantenere le temperature in una determinata maniera fare le cotture in una determinata maniera come lo fai? io ho avuto il tempo e ho fatto un'accademia professionale del gambero che mi ha dato la possibilità con Inglis Corelli che anche lui ha questa visione circolare della cucina ma anche della vita questo mi ha permesso di conoscere ancora di più delle tecniche e di approfondire la curiosità mi ha portato da buon siciliano a conoscere tutte le spezie che fanno parte del nostro comparto mediterraneo e non solo perché ce ne sono alcune che abbiamo anche acquisito e portarle da me quindi ok benvenute adesso iniziamo divertiamoci e prendo spezia per spezia e la vado ad assaggiare ad annusare a capire quello che mentalmente mi può regalare da là poi vai a fare un'associazione un'associazione di quello che può stare bene insieme e quindi di conseguenza quando hai scoperto tutte le spezie poi inizi a cercare le spezie che sono magari dimenticate e quello diventa cultura su cultura divertimento su divertimento e quindi vai a utilizzare anche meno sale meno meno e poi comunque le proprietà fitoterapiche incredibili pazzesche quindi oltre a arricchire di sapori il sommacco che oramai è diventato un po' una spezia conosciuta ma è una spezia siciliana che era il sostituto dell'aceto perché leggermente acidulo aveva queste bacche rosse io ci faccio delle maionesi ci faccio degli insaporatori per un pesce bullito oppure fatta al vapore mi metti sopra questa questa spezia già mi viene dell'acqua in bocca e un po' di olio extravergine d'oliva basta hai fatto quindi fine quindi potrei essere in grado anch'io che mi ritengo negato in cucina ma tutti lo possono fare tutti lo possono fare chiaramente serve un minimo di cultura quando io facevo giardini da incubo perché tutto parte da là dall'amore per la terra il nostro humus che sta nel sottosuolo che purtroppo sta per terminare è quella nostra forza i bambini non li dobbiamo mantenere in un stato di sterilizzazione i bambini se si mangiano un po' di terra non casca il mondo ma vanno a prendere e ingerire quelle proprietà che gli aiutano al sistema immunitario cioè di tutto quello che il nostro mondo è uno stimolo ormetico che genera una supercompensazione di adattamento questo no lavati le mani questo no lavati le mani questo è un po' più di tranquillità perché io ho la mia età ho fatto tutto quello che dovevo fare tu di terra sul campo ti è capitata bravo ne ho mangiata pure tanta però mi sembra che stia morto oppure ho altre problematiche e allora cerchiamo di mettere meno sterilizzazioni e più concretezza e a proposito di questo ma all'isola quindi intanto immagino che lì ce n'era già un po' meno e di sterilizzazione seconda cosa cucinavi tu per il gruppo dei naufraghi o no? allora tutto è nato così sfatiamo anche questa cosa e io non volevo cucinare perché perché ho detto ragazzi io mangio solo in questo orario quindi per me la giornata era molto lunga però ho detto facciamo una scelta mangiamo a pranzo o a cena intanto non sapevamo neanche quando era il pranzo neanche quando era la cena però diciamo al calare del sole prima il calare del sole si fate guidare dalla luce e buio esatto potrebbe essere interessante anche per esatto potrebbe essere interessante per la società attuale assolutamente il ciclo circadiano è la perfezione e quindi ho detto io mangio a questo orario molti hanno detto anch'io voglio mangiare a questo orario qualcuno ha fatto il tentativo a pranzo e poi la sera aveva fame in realtà se tu mangi la sera poi vai a dormire quindi non hai quella stimolazione mentale che ti dice ah adesso ho fame ho la fame nervosa no mentre invece la fase prima sai che dovrai mangiare esatto l'attesa della dopamina ti salva perfetto poi entri in quel sistema di abitudine dopo i 21 giorni ti sei abituato a prendere quel sistema e stai a posto cosa mangiavamo? 40 grammi di riso e non ce n'era un chicco di più anzi un chicco di meno sicuramente perché? perché quello era il sistema per creare i meccanismi di rottura e di litigio perché partiva tutto dalla fame certo io in qualche maniera mi sono come dire aiutato perché? perché mangiavo i molluschi anche quando non avevamo il fuoco mi andavo a prendere da noi si chiamano le padelle là erano tipo delle padelle ma un po' preistoriche erano un guscio pazzesco ma molto buone quindi avevo preso il macete avevo guadagnato il macete e andavo a staccare queste padelle e le mangiavo sono tornato ho fatto gli esami tutto a posto perfetto anche perché là il mare era molto pulito e detto questo i 40 grammi di riso le conchiglie che facevamo tu andavi a ingerire più o meno 180 100 grammi tra carboidrati e proteine mi sembra un buon compromesso e tutti mi dicevano Andrea cucina tu non è che io volevo fare volevo cucinare io con la speranza che si arricchisse di qualcos'altro perché? perché loro dicevano quando mangiamo con te abbiamo più porzioni cioè facciamo due giri perché? perché io mettevo una parte riuscivi a moltiplicare il cibo? eh sì perché la tecnica sta anche là giocare su questo cioè avere un riso che non era troppo acquoso ma era più cremoso poi avevamo messo abbiamo trovato dei cactus di mare i cactus di mare sono dei cactus che stanno di cetriolo vai a levare tutta la parte esterna e la parte interna sono sicuramente minerali vitamine quindi faceva anche volume assolutamente quindi chi cerca trova chi non ha paura sperimenta e sta sempre là che sia nella vita normale che sia nella cucina è tutto un un interesse a cercare provare annusare e farlo tuo beh allora io da questa puntata mi porto a casa sicuramente una filosofia di vedere le cose in maniera diversa e di questo te ne sono davvero grato grazie perché indipendentemente dai tuoi racconti interessanti però tu comunque di base hai un approccio che non è un approccio riscontrabile in maniera frequente anche nella società attuale quindi hai un buon modo trovo di avere un buon ritmo per dedicarti alle cose che ami e che ti piacciono partendo anche dal presupposto che abbiamo capito tante cose abbiamo capito che per te il jolly esiste e non esiste perché comunque tu ti basi su quello che può essere l'alta qualità di quello che ti può gratificare e di come è fatto poi abbiamo parlato del tuo dimagrimento del tuo calo di peso anche attraverso tecniche dietetiche attraverso esperienze come quella dell'isola eccetera e trovo che ci hai dato una grande opportunità per apprendere insomma molti dettagli ma soprattutto una filosofia di base che oggi non è così frequente all'interno della società e restituisce un po' quello che può essere il giusto ritmo circadiano che dovremmo tutti noi avere e ricercare perché non è questione di avere tempo o non avere tempo è questione anche di strategie il tempo lo trovi il discorso delle persone sono un po' troppo abituate alla poltrona quando ti siedi la poltrona è comoda quindi rialzarsi dici ma perché mi devo alzare invece il fatto che tu ti rialzi vuol dire che ti stai mettendo in moto vai nuovamente alla ricerca di qualcosa non necessariamente troverai una risposta o il piacere di aver fatto quella cosa però rimane sempre un'esperienza l'esperienza poi ti porta a fare cosa a non sbagliare ulteriormente oppure a se sei stupido a continuare a sbagliare però concettualmente la mia vita è fatta così devi fare dei tentativi dei tentativi li puoi fare soltanto grazie all'esperienza e quindi è una buona filosofia di vita non teorica ma pratica quindi e penso che il fatto di comunicare come stiamo facendo noi oggi anche altre persone ricevono lo stesso feedback certo perché è fatto in maniera semplice non è non abbiamo dato una terminologia tecnica o fin troppo professionale perché non serve perché se tu vuoi portare le persone a te più semplice sei e più vai a prendere le persone che hanno studiato fino alle persone che non hanno studiato ma che hanno quel minimo di intelligenza per capire un concetto allora il bello è questo avere una lingua universale e poi quando parliamo di cibo noi tutti mangiamo tutti i giorni quindi l'obiettivo di La Tavola Cogliadra è attraverso una semplice chiacchierata tra amici riuscire a cercare di dare dei piccoli stratagemmi strategie che uno può portarsi a casa anche solo ascoltando una chiacchierata tra due persone che comunque io devo dire si arricchiscono a vicenda perché è uno scambio è un'interazione umana molto importante che fa parte anche quello della convivialità e anche della longevità quindi di questo io te ne sono grato anche io anche io ti faccio una domanda l'ultima domanda questa sera quindi cosa ti cucini o cosa mangerai guarda adesso ancora non ci ho pensato però pensavo di fare delle ci stavo un po' pensando una vecchia ricetta siciliana perché mia moglie ha portato alla Puglia del pane che però oramai abbastanza non è più croccante quindi lo passo con del latte d'avena metto dentro della menta dell'aglio uovo e poi faccio un formaggio con il lievito disattivato e gli anacardi quindi frullo tutto e vado ad addizionare non utilizzo né il pecorino né il parmigiano questa è una ricetta siciliana povera quando non c'era la carne quindi si andava a fare questa polpettina che aveva una specie di consistenza un po' simile alla carne che però soddisfava il palato arricchita così la vado prima a passare un po' faccio questa doratura in padella con dell'olio extravergine d'oliva e poi vado a mettere il pomodoro ma ti dirò di più gli metto anche le lenticchie complimenti perché ha una capacità in cucina incredibile e soprattutto di riutilizzare alcune cose alle quali poi tu aggiungi sempre le tue mate spese sì perché la tradizione è la tradizione però se tu hai un po' quest'estro ti diverti grazie ancora grazie a te ti è piaciuto questo video allora iscriviti al mio canale youtube e in più lasciami un commento sotto il video perché voglio sapere cosa mangerai questa sera mi raccomando è importante